amici di tripla detta bella buonasera a tutti puntata numero 29 della seconda stagione di tripla siamo in mezzo a due partite per questo motivo torniamo per la seconda volta in una settimana parleremo ovviamente delle luci e delle ombre del dopo chiusi cercheremo di intuire le chiavi della prossima partita contro rimini niente affatto facile e poi cercheremo di intuire quello che potrà succedere in queste ultime due giornate di prima fase di stagione regolare bisogna sempre concentrarsi quando si parla della formula di questo campionato perché ancora adesso dopo quattro mesi che è iniziato facciamo tutti un po fatica a comprendere le logiche però insomma quello che è certo è che mancano due partite alla fine questa volta per tutti non soltanto per tutte le altre tranne trieste visto che trieste l'ha recuperata quella che doveva recuperare ma insomma può succedere ancora di tutto l'abbiamo visto tutti possono vincere possono perdere con tutti per cui nessun risultato è ancora stabilito dal punto di vista matematico sebbene le posizioni soprattutto in testa siano abbastanza ben delineate per parlare di questo e molto a molto altro fuori onda prima di iniziare parlavamo di questo nuovo clima da amministrazione alleata post post guerra seconda guerra mondiale con questa sinergia non meglio definita o perlomeno noi non l'abbiamo ben capita con gli stati uniti ma insomma penso che nei mesi nelle settimane a venire qualcosa di più chiaro verrà a galla per parlare di tutto questo abbiamo nuovamente con noi il graffiante come sempre vittorio leone bentornato grazie ciao buonasera a tutti senti vittorio prima di dare la parola a raffaele per iniziare la puntata la mia curiosità personale è con quale vino ti sei presentato questa sera perché ormai sei diventato il mio maestro stasera una cosa strana siccome sono riduce da un viaggio prima lione per una bella manifestazione di vino una bella fiera e poi nel piemonte portato una fresa e stasera mi è l'ultimo calice della bottiglia di fresa che ho aperto a pranzo fresa e un vitigno nobile un vitigno sottovalutato piemontese viene considerato un po parente povero di del nebbiolo ma invece è un gran vitigno solo che ormai è passato un po in in seconda in seconda linea invece secondo me ha il suo perché bene dai ci sentiamo onorati di allora ospitare questa quasi rarità parliamo di un rosso ovviamente beh certo certo nebbiolo raffaele io parlerei di vino tutta la sera però ahimè siamo qui no no anche io infatti assolutamente mi allineerei allora vittorio come come anche il nostro il mio protagonista alle spalle dell'estate l'estate triestina papa francesco col pollice alzato trieste torna la vittoria trieste vince tutti noi abbiamo scritto non convince magari offendendo qualcuno o dicendo di essere esageratamente critici il punto è questo ragioniamo ragiamo ovviamente a bocce ferme trieste certamente mancava di due pedine fondamentali come russier e reyes affrontava l'ultima in classifica vince parliamoci chiaro comodamente parliamoci chiaro perché al di là del punteggio ha comandato e soprattutto ha gestito la partita però però concede 90 punti alla san giobbe chiusi quindi quindi il punto è questo il punto è essere più positivi per la reazione della palacastro trieste rispetto alle ultime due sconfitte soprattutto la pesante di cividale oppure dobbiamo comunque continuare in questa linea di criticità perché per per guardare i piani alti per guardare il futuro per guardare la serie a non possiamo permettere che trieste conceda 90 punti a chiusi vittorio tu come la vedi da che parte stai sto nella seconda parte sto nella seconda parte con un però con un distinguo questa è una partita da prendere con le molle come analisi perché perché giochi contro l'ultima in classifica ti mancano forse i due migliori giocatori ti mancano e alla fine vinci non convinci secondo me però vinci in controllo e soprattutto vinci con le prestazioni finalmente positive di 2 barra 3 dei giocatori più discursi finora allora vien da dire tante cose su questo allora vien da dire che questi questi ragazzi si sono trovati ad affrontare degli avversari al loro livello e a un livello purtroppo però basso di categoria perché chiusi è una squadra lotta per non retrocedere e ahimè forse anche retrocederà perché la vedo molto debole nel settore lunghi quindi penso che l'avrà molto dura prima prima cosa seconda cosa la difesa no stranamente che di solito non parla mai cristiano e presentare oggi la partita contro rimini incredibilmente ha dichiarato che nelle ultime partite la nostra difesa ha dimostrato delle alcune incredibile ma vero quindi vuol dire che c'è qualcosa da da mettere a posto dietro prova ne sia che nei nel primo quarto abbiamo fatto tirare sette tiri liberi a a chiusi negli altri tre quarti ne hanno tirati tre quindi vuol dire che la nostra difesa è stata allegrissima anche perché se no non prendi 90 da chi ne fa 63 di media quindi la difesa allegra se tu ti ricordi la partita c'erano dei giochi lineari tranquilli semplici andavano dentro anche come il burro quindi da questo sotto questo punto di vista è una partita che secondo me ha mostrato anche un po i nostri limiti di squadra hai capito questo è quello che penso io però non posso neanche demonizzare la partita perché perché venivamo da due battoste da una prestazione in fausta cividale con percentuali inaccettabili quale percentuali erano buone e quindi di conseguenza prendiamo prendiamo i due punti prendiamo la prestazione da ripetere però domenica perché se no tutto quello che abbiamo visto e detto cade tutto però vittorio allora ti faccio un ragionamento è un parallelismo errato ma aiuta a comprendere un po quello che voglio dire noi nell'era dalmasoniana vivevamo vivevamo tra critici tra invece sostenitori di di eugenio dal masson ma avevamo dei denominatori comuni abbastanza chiari cioè per esempio la difesa la difesa che le squadre di eugenio dal masson avevano eh sul parquet era una difesa eh concreta una difesa costante una difesa che si ripeteva di partita in partita questa squadra allenata da coach cristian manca proprio di punti di riferimento che possono essere possono ritrovarsi di domenica in domenica ho detto che un po un oggetto la pallacanestro trieste che appunto bisogna dare un due colpi al cruscotto un due colpi al volante per farlo mettere in moto eh noi il futuro lo vediamo su che basi concrete dove poggiamo la nostra la nostra ehm la nostra proiezione eh al futuro perché ho paura che siamo fragili eh da questo punto di vista mancano le fondamenta sono sono totalmente d'accordo se per futuro come tanti dicono aspettiamo i playoff se tu per futuro intendi playoff tante risposte ce le darà l'orologio perché nell'orologio andremo in trasferta su campi importanti e là vedremo la nostra la nostra la nostra solidità la nostra struttura e la nostra la nostra prospettiva se nelle nelle tre partite strategiche che verosimilmente faremo in trasferta nell'orologio ossia tra panica in tutto torino se in quelle tre partite dovessimo eh fallire o comunque essere in difficoltà penso che secondo me non avremo un grande futuro ecco nei playoff questa è la è la mia è la mia sensazione poi sono pronto a a ricredermi aggiungi anche Forlì fra due settimane quindi ad oggi ci sono eh quattro scontri diretti con in trasferta contro squadre eh non non sapreste definirle avversarie dirette ovviamente perché siamo ancora molto presto per definire una griglia playoff però effettivamente oltre le tre che hai nominato tu c'è ancora Forlì da affrontare in trasferta dopo la vittoria di 17 in casa e aggiungiamoci che Trieste finora non ha mai vinto in trasferta uno scontro diretto per cui sono assolutamente d'accordo con te Vittorio quando dici che queste tre più una quattro partite definiranno esattamente il futuro di questa squadra nei playoff sì oggi mi sono divertito a fare anche un piccolo confronto tra la partita di Forlì contro Chiusi che era domenica e la nostra contro Chiusi no se tu guardi dei spezzoni delle due partite e ti rendi conto un momentino dell'impianto di gioco di Forlì e dell'impianto di gioco nostro e lì capisci qualcosa eh sì Vittorio sì Vittorio e mi riconduco adesso a un altro anche aspetto tu hai parlato di giocatori che sono tornati finalmente a respirare a respirare aria nobile di protagonismo no parliamo di Stefano Bossi parliamo di Lodovico De Angeli eh però però parlo anche di alcuni giocatori che invece si sono incazzati non poco parlo di eh Giovanni Vildera no assoluto fa quattro su quattro al tiro domina l'area pitturata viene tolto dal campo ora ora ti faccio una domanda un allenatore americano con una eh profonda un profondo imprinting da mental coach come può togliere un giocatore in trans agonistica in in ritmo in fiducia e questo è una sorta di freno a mano alla squadra e parlo soprattutto anche per altri giocatori vedi Stefano Bossi con un minutaggio che oggettivamente le altre partite non gli permetteva troppo di far vedere il proprio valore quindi ehm come come lo leggi tu da questo punto di vista questa questa spesa perché qualcuno ha detto magari ha tolto ha tolto Vildera per rimettere Candussi per riavere Candussi nel match visto che si era perso nei primi minuti no io io sono d'accordo con te cioè io a parte l'americano ma anche un coach italiano un giocatore in come Vildera stava giocando in quel momento assistito bene perché era anche stato assistito bene sotto canestro e tutto ha messo anche una dei quattro cinque metri che non ha mai messo vita sua penso quindi voglio dire io non lo tolgo mai io lo lascio fiducia e lo lascio e lo lascio dentro chi resta fuori capirà se ne farà una ragione io non lo tolgo mai come non ho capito neanche poi vabbè forse la partita era anche decisa però questi cambi repentini no cambi di giocatori per pochi secondi fuori fuori dentro fuori dentro io sinceramente tutti sanno che io non ho giocato a basket però però voglio dire io penso che non riesco neanche ad entrare nel clima se dopo 30 secondi mi togli c'è c'è qualcosa che io faccio fatica a capire sinceramente nel coach e non credo che sia che sia una una normale gestione di di un giocatore che sta rendendo in quel modo lì francesco ti faccio una domanda a te vedo vedo le partite vediamo le partite tutti e ho l'impressione ma ripeto un'impressione non vuole essere sempre il discorso della 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 critica proprio esageratamente dopo che va a sforculiare un po nelle pieghe delle situazioni però l'impressione che linguaggio del corpo giocatori coach christian sia cambiato sia molto più freddo rispetto a settimane fa a mesi fa può essere una mia impressione oppure figlia del momento magari di qualche sconfitta in più fisiologica come vuoi tu come la vedi si sono sono d'accordo con te abbiamo ospitato proprio in trasmissione tanti giocatori e c'è stato se ti ricordi un coro unanime nell'apprezzare l'aspetto umano oltre che tutte queste novità le quali si sono dovuti adattare soprattutto durante la settimana non in allenamento però soprattutto dal lato umano dal lato della comunicazione continua che c'è fra i giocatori e l'allenatore tutti quanti hanno detto la stessa cosa secondo me si è rotto qualcosa almeno così a vedere il linguaggio del corpo come giustamente dicevi tu prima dopo quei maledetti ultimi quattro secondi a udine il coach in conferenza stampa dopo la partita ha parlato di bad execution quindi ha scaricato un po per la prima volta probabilmente in maniera esplicita non dico la colpa ma insomma qualche responsabilità a giocatori che probabilmente non hanno compreso quello che dovevano fare non hanno messo in atto la strategia non soltanto ovviamente nell'ultima azione e questo si è chiaramente visto nella partita successiva a cividale in cui l'ho detto anche in diretta in radio cronaca il linguaggio del corpo dei giocatori sembrava veramente parlare parlare esplicitamente non c'era comunicazione con la solita comunicazione con la panchina non sempre i cambi erano accettati in maniera così molto serena come è sempre stato finora forse controchiusi ripresa ma con l'eccezione probabilmente soltanto di vildera però insomma diciamo che la partita era abbastanza tranquilla quindi non c'era poi troppo da innervosirsi però cividale è stata proprio l'espressione massima di questo principio di scollamento ma direi più che di scollamento perché nessuno può dire che nessuno abbia giocato contro nessun altro perché affermare una cosa del genere sarebbe veramente molto grave e non risponderebbe al vero però una mancanza di comunicazione una mancanza di accettazione di determinate scelte si è visto anche un po di nervosismo non soltanto col coach ma anche con i due assistenti grandi discussioni insomma diciamo che nervi veramente veramente scoperti direi che controchiusi la partita come come ho detto non richiedeva particolare comunicazione particolarmente particolare come dire sinergia fra panchina e campo i giocatori tutto sommato soprattutto da metà del secondo quarto in poi hanno gestito col pilota automatico la partita soprattutto in attacco in certi momenti rifiutandosi praticamente di difendere però in effetti sono sono assolutamente d'accordo con te adesso ovviamente bisognerà vedere se la prestazione di cividale è la causa di questa impressione e quindi inizia e finisce lì oppure se effettivamente è un trend che continuerà anche nelle prossime partite questo è qualcosa che sono molto curioso di osservare perché io credo che potrebbe essere veramente forse l'unica causa di messa in discussione del coach da parte della società che finora nessuno ne ha mai parlato a proposito di messa in discussione vi faccio un faccio una considerazione che mi ha mi ha colpito mi ha stupito proprio nelle parole di coach christian nella presentazione di della partita con con rimini in quanto io avevo la percezione che un allenatore americano non avesse neanche non mi passasse per la testa il concetto di cambiare un allenatore no per un allenatore di college e l'associazione di allenatore praticamente non esiste invece nelle parole presentando presentando la partita con rimini coach christian dice a rimini da quando ha cambiato l'allenatore gioca nettamente meglio fa questa quindi ha sdoganato il concetto il concetto di che insomma di cambiare l'allenatore che ora caro vittorio come dire da un certo punto di vista quindi si è totalmente europeizzato da questo punto di vista e questo vuol dire anche che ha capito che qua in europa il posto non è così certo e così è un concetto che può essere trasferito anche a mai carceri oppure è proprio una considerazione tecnico tattica fatta prima e dopo la riunione dell'anielo rimini però sono chiesto me lo sono chiesto a lungo quando ho letto ho letto perché non ho sentito ho letto le sue dichiarazioni io sono rimasto veramente sorpreso e un po anche alibito da 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 quello che ha detto perché ho detto ma come tu che in pratica sono quattro mesi che sei in discussione adesso che stai stai dicendo stai dicendo che è con un cambio di con un cambio di allenatore cambiata la fisionomia di una squadra ti sdogani e sdogani il concetto ma ma ti metti in gioco tu stesso metti esatto condizioni di essere di essere di essere estromesso se vogliamo ti dirò e hai nominato mai mai carceri e per per fare una piccola aggiunta a quello che ha detto francesco un attimo fa io io non ero in sala stampa sono andato via non ero in sala stampa contro chiusi ma io l'ho visto tirato e teso era atteso con una corda di violino veramente mai quindi non lo so vittorio non stava bene era quello il motivo ah boh ok non lo sapevo ok perfetto sì anche perché finora non l'ho mai visto così però quello che hai detto tornando a raffaele tornando a coach christian effettivamente quell'affermazione veramente è un'illuminazione se vogliamo no per certi versi ecco e non riesco capire il se allora o si è reso conto di quello che dice e quindi si mette in discussione e dice signori sono qua sono a disposizione se c'è qualcosa che non va sono qua oppure l'ha fatto in maniera ingenua perché sai potrebbe anche anche essere questo non ti so dire la quella che è quella che è la verità secondo me è che però comunque è un aspetto è un aspetto interessante come come aspetto interessante è la come dire lo spunto gli spunti dati dalla curva nord con degli striscioni apparsi durante la partita rivolti a allenatore società per cui mark carceri non è voluto entrare nello specifico ma i carceri secondo me non è che non li ha visti ha fatto il professionista che deve uscire da contesti di curva di tifoseria e deve tirare la barra dritta ora parlo magari anche con francesco secondo te queste questi così queste specie di 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 polemiche velate da parte della curva estremamente educate estremamente anche se vogliamo indirizzate a persone e ruoli a tuo modo di vedere sono un un reale elemento che la società deve tenere in considerazione oppure oppure ripeto la logica americana deve chiudere un progetto e dopo tirare le somme alla fine ma entrambe le cose ma non per i banner come sono stati definiti giustamente tra l'altro da andrea sale in in sala stampa io credo che intanto bisogna dare atto alla curva che il tono utilizzato da entrambi gli striscioni è stato molto garbato cioè era quasi come dire un suggerimento no forse potremmo guardare oltre il nostro naso e vedere e guardarci intorno ecco per cui bisogna dare atto alla curva di aver utilizzato un un linguaggio un atteggiamento non da curva non da quello che ti aspetti da il tifo più acceso io credo che arcieri sia con gli occhi aperti da questo punto di vista non ovviamente grazie al suggerimento che arriva dal pubblico ma proprio per il completamento del progetto nel senso che il progetto è il faro che guida questa chiamiamo l'amministrazione visto che ormai dobbiamo parlare in termini americani e gli americani parlano di amministrazione quando c'è un uomo solo al comando questa amministrazione ha un obiettivo e un progetto per perseguirlo posto che quello è il faro bisogna utilizzare anche metodi drastici per raggiungerlo e dunque nel momento in cui apparirà evidente che quel progetto non potrà andare a compimento con questo timoniere il timoniere verrà messo in discussione la esatta sensazione che io ho in questo momento è che arcieri la società ma insomma l'amministrazione arcieri consideri questo quarto posto attuale è possibile quarto posto al termine della prima fase come qualcosa che sta che stava nei piani quindi un una tappa del percorso secondo come previsto e dunque per questo motivo che scusate stasera sono un po in difficoltà ma con la voce ma insomma è questo è il motivo per il quale in questo momento coach christian mi sembra assolutamente in sella assolutamente non in discussione proprio perché credo che al di là poi di tutti i difetti di crescita di tutti i difetti di adattamento di tutto quello che abbiamo detto tutti quanti da partire dall'inizio di ottobre dalla prima partita del campionato sono tutte cose che loro considerano un rodaggio ma è un rodaggio finito ma insomma diciamo una evoluzione continua verso quello che vorranno raggiungere fin tanto che loro si trovano sul path sul sul percorso stabilito secondo me coach christian non rischia alcunché e per chiudere proprio il discorso su christian e per rispondere a vittorio non è un'ingenuità la sua affermazione di oggi coach christian è una persona tutto quello che possiamo e vogliamo e abbiamo detto dal punto di vista tecnico e del gioco espresso dalla squadra non cambia di una virgola rispetto a quello che sto per dire però è una persona estremamente intelligente che non usa le parole a caso soprattutto nei rapporti con i suoi giocatori per cui il fatto che lui si renda conto che un cambio di guida tecnica possa portare un cambiamento nel modo di giocare di una squadra o anche nell'atteggiamento del dei giocatori nei confronti delle partite è qualcosa che insomma fa parte del del gioco anche per lui per cui io credo che lui si metta assolutamente in discussione da questo punto di vista e per chiudere poi però bisogna anche dire che rimini nelle ultime 12 partite ne ha vinte 5 quindi con dell'agnello noi abbiamo giocato contro di loro avevano 4 punti adesso ne hanno 14 hanno perso qualche partita in maniera anche insomma pesante hanno perso in casa l'ultimo secondo due settimane fa proprio con cividale però attenzione che arrivano a trieste dopo una vittoria di 18 contro nardo insomma questo non c'entrava con mi è venuto in mente su quanto cambiata è rimini rispetto alla squadra che abbiamo incontrato all'andata che però sarà diversa non tanto e non solo perché c'è dell'agnello in panchina quella era la prima partita di denanello a rimini quella dell'andata nostra quindi non se ne vedevano ancora gli effetti ma soprattutto perché ci sarà justin johnson però insomma sulle chiavi sulle chiavi della partita ci illuminerete ci si numererà e tanto raffaele sul giornale nei prossimi giorni però ovviamente ne parleremo anche questa sera sì tra l'altro una bella provocazione di emma sul sulla chat e quella è quella corretta lui dice se gm coach sono inamovibili se il mercato non sembra un obiettivo il senso quindi delle critiche del pessimismo qual è non è energia e fiato sprecato è una provocazione estremamente intelligente che però io voglio a cui voglio rispondere cioè la mia idea la mia idea è che la critica costruttiva sia un atto d'amore la critica costruttiva è quel qualcosa che innesca un dialogo reciproco no con addetti ai lavori con indifferente che aiuta a crescere in ambo le parti ambo le parti se noi non facessimo questa critica non saremmo né onesti nei nostri confronti né onesti nei confronti dell'amore che abbiamo per la palacanestro e per la palacanestro trieste quindi quello che voglio dire è che molto spesso anche nei social si confonde si confonde la critica col fatto di essere distruttivi non è questo proprio il concetto vittorio tu che sei uno che graffia che graffia sempre anche tu per amore per amore spiega anche tu questo concetto perché sembra che a certe persone non arrivi non arrivi questo concetto sembra come che il voler bene vuol dire vuol dire accettare tutto passivamente io ricordo quando giocavo quando giocavo a livello condominiale mi diceva sempre tutti gli allenatori mi dicevano guarda preoccupati dell'allenatore che non ti dice non ti critica e non non ti non ti esprime nulla invece segui l'allenatore che si ti manda anche a quel paese ma vuol dire che ti considera hai detto tutto tu mi hai portato via proprio la frase quando quando hai detto quando hai detto e quando hai detto poco fa che noi non possiamo dire solo bene qualcosa di un qualcosa che oggettivamente non è non è bene è quello che diciamo in linea di massima serve appunto a stimolare e fare in modo che diventi bene quello che non è bene è un po complicato ma penso di essere stato certo cioè voglio dire voglio dire la critica io io non capisco come detto tu le persone che si aspettano da chi ne parla scrive giornalisti commentatori opinionisti che a prescindere bisogna parlarselo bene perché perché sono arrivati nel americane americano perché se non eravamo spacciati perché se non eravamo rovinati eravamo falliti portavamo i libri in tribunale e boh non è sufficiente non mi basta cioè a me non basta perché a questo punto io ho diritto e anche dovere di parlare di quello che vedo e di parlare per il bene di questa squadra questo è il come hai detto tu hai detto tutto tu posso solo aggiungere qualcosa posso dire ampliando un po tornando un po sull'argomento di poco fa che quello che andrebbe fatto è fatto capire a chi questi commenti che bisogna andare a vedere al nocciolo qual era l'origine di questo di questo torneo quando francesco poco fa ha detto che la società li va bene è nel pez e quindi li va bene arrivare anche quarto io non credo che loro pensassero di arrivare quarti io pensavo che arrivava pensassero di arrivare alla fine della regola primi secondi terzi se va male questo pensavo perché se no non si spiega non si spiega trattenere confermare completamente il roster italiano con due inesti americani perché vi ricordate de meo repulisti alla fine di brindisi era un repulisti repulisti è stato solo regovic quindi a questo punto io penso che la società invece è convinta di aver attrezzato una compagine un team in grado di fare un campionato di vertice poi chiaro vanno su due sole no e quindi voglio dire si spera di essere una delle due però però essere però competere competere in maniera in maniera importante quindi tutto quello che è una critica quello che si visto finora io penso che sia solamente una legittima considerazione da parte di chi commenta certo un altro argomento che ehm poniamo all'attenzione per cui io mi sono dico la verità proprio è emozionato è la la presenza di tanti tanti ragazzini sugli spalti eh la servolana quindi tra ragazzini giocatori genitori e quant'altro più anche una parte dei dipendenti di debatt erano presenti al palazzo in quello che secondo me eh dovrebbe essere una sorta di leitmotiv di tutta una stagione cioè portare i ragazzini al palazzo farli innamorare di questo sport farli eh trovare nuovi idoli eh e per per dopo come dire far progredire il movimento e eh espandere il verbo allora mh questa mattina io e Francesco ci siamo come dire interfacciati perché perché c'erano tutta una serie di sfumature dalla parte della società dalla parte della servolana dalla parte ognuno che tendeva che tendeva un po a mettere a fare delle puntualizzazioni allora allora parlo con Francesco soprattutto con cui mi sono confrontato questa mattina il punto è questo se se un'iniziativa così lo debole è assolutamente inattaccabile a tutti i punti di vista ha degli elementi proprio che devono essere chiariti il giorno dopo vuol dire che c'è un problema di comunicazione ed è forse un problema che alla palazzo c'è ed è forte da tempo quello della comunicazione giusto ma sono sfondi una porta spalancata parlando di questo è un'iniziativa importantissima secondo me perché portare i bambini a palazzo ti crea la nuova generazione di tifosi crei il tuo futuro credi crei il tuo pubblico che verrà il palazzetto negli anni a venire per cui portare i bambini al palazzo come peraltro ha fatto la triestina allo stadio nelle settimane in cui ahimè si è potuto giocare al rocco ma rare ma insomma tre quattro volte è successo anche la società lo ha fatto però lo ha fatto un po sottotraccia nel senso che c'è stata una mail a tutte le società di basket triestine con la quale venivano invitate a palazzo ad un prezzo che insomma adesso che si mettono d'accordo ma insomma diciamo un prezzo molto molto contenuto per portare i bambini al palazzetto basta inviare un foglio excel con l'elenco dei bambini degli atleti e del dei loro accompagnatori aggiungiamo anche che l'intento della società è quello di portare al palazzo non soltanto i piccoli giocatori di pallacanestro quindi non soltanto i gli appartenenti insomma i tesserati alle società minors quindi ai piccoli giocatori delle società triestine ma a tutte le società sportive triestine dalla bocciofila ai giocatori di tennis a quelli di golf ai giocatori di calcio ce ne sono sappiamo veramente tantissimi per cui questa è una mail che a quanto pare è stata mandata però bisogna assolutamente dirlo perché né io né nessun altro credo fra i giornalisti diciamo anche fra gli osservatori più attenti delle vicende della pallacanestro trieste ne sapevamo assolutamente nulla siamo rimasti tutti quanti molto sorpresi no ieri sera l'altra sera a vedere quella porzione di tribuna su in alto tutta così gremita di bambini proprio perché non ne sapevamo assolutamente nulla e quindi francese è proprio questo il punto è proprio questo e il problema non è lanciare un'iniziativa magari in estate il problema è che degli emissari della società devono continuamente continuamente entrare nelle società minori e essere come un moto perpetuo come ho detto proprio per cercare di rinverdire questa questa iniziativa ci sono tante persone in società assolutamente belle in giacca e cravatta tutti bene bene ben vestiti c'è bisogno anche la di sporcarsi le ginocchia come si suol dire andare in giro andare verso le staminori questo è il punto sì questo è fondamentale non è solo lanciare un'iniziativa estiva perché a mio modo di vedere questo è il modo veramente di creare un'onda un'onda emotiva che dopo può portare anche a riempire a riempire palazzetto e tutto quello che ne consegue sì noi ne abbiamo parlato anche sul nostro sito e sui nostri social questa mattina proprio perché io personalmente lo ritengo veramente un qualcosa di assolutamente fondamentale bisogna che però la società come giustamente dici tu porti il verbo con i propri giocatori con i propri emissari con soprattutto sfruttando ovviamente i giocatori che hanno più appeal con i ragazzini più piccoli in giro per per le scuole per le società anche per esempio adesso ci dice roba sulla sulla chat che i tempi di alma si era lavorato bene coi ricreatori per esempio altro elemento altro altro vanto di trieste vanto vanto di trieste ricordiamolo sempre che si è parlato sin troppo poco dei ricreatori ultimamente bisogna rilanciare queste cose qua e abbiamo anche vittorio di nuovo sì in qualche modo ma non mi vedo ma non ci siamo molto verticale ma ti vediamo ecco adesso adesso ti vediamo addirittura giusto comunque al di là di questa parentesi così però estremamente estremamente importante ci avviamo ci avviamo verso verso la sfida di rimini che è estremamente importante estremamente complessa avete fatto un nome che probabilmente non farà dormire coach cristiano staff tecnico e giusto justin johnson che nei primi due minuti mi sembra di partita eh all'andata sostanzialmente aveva messo in difficoltà chiunque della palacanesto trieste oggi non abbiamo reyes quindi veramente la partita con rimini può essere complessa da questo punto di vista giusto vittorio sì se ricordo bene è stato reyes a dragiarlo mi pare che sia stato proprio reyes quindi quindi proprio casca casca penello sì è complicata è complicata rimini in salute no e ha vinto tre delle ultime quattro seppur contro squadre dello stesso livello però è complicata io sono sincero guarda voglio sono graffiante sono criticone voglio essere ottimista per per domenica voglio essere ottimista però dobbiamo mettere un'attenzione massima dobbiamo giocare in difesa dobbiamo mettere una attenzione massima senza cali di tensione senza senza cali di concentrazione sarà una partita complicata sicuramente più difficile con chiusi ma per noi fondamentale perché portarla a casa anche perché a parte che secondo me dovrebbe tornare micchi che dalle notizie che avevo era già pronto contro chiusi e ha avuto una scavigliata ma era in grado di giocare per cui micchi dovrebbe esserci della partita e quindi e quindi sì complicata sarà però sì tra l'altro rimini è al momento terz'ultima in classifica aspetta mettiamo mettiamo la classifica terz'ultima in classifica pari punti con cividale cividale la raggiunta al proprio all'ultimo posto disponibile per poter poi ambire anche ai playoff quindi rimini viene a trieste per poter agguantare in extremis un posto ovviamente siamo ancora lontanissimi perché se so che poi mancano lo stesso dieci partite no della seconda fase però arrivare terz'ultima vorrebbe dire dover affrontare tre delle prime tre come dire in classifica del girone verde no per cui insomma sarebbe veramente molto complicato poi riuscire a salvarsi nella seconda fase sì effettivamente anche anche daniele da casa l'amico daniele ci dice che guardando un po la pagina facebook di rimini c'è grande grande motivazione c'è grande ottimismo a casa rimini quindi da stare attenti vi pongo un ulteriore interrogativo che me lo me lo sono posto da solo mi sono risposto da solo come matti praticamente nel senso io ho parlato di un brux imprescindibile ergo per me 35 minuti almeno in campo e leader del dell'attacco triestino secondo voi è blasfema questa mia affermazione in funzione di una squadra a tutti i cilindri oppure è il momento di affidarsi a chi ha più qualità io scusa prima che parli vittorio vorrei dire una cosa che fra lo scherzo invece la realtà assolutamente d'accordo con te baldo a meno che brux non commetta un fallo nei primi cinque minuti in quel caso probabilmente lo vedremo in campo per 12 15 minuti finita questa provocazione torniamo seri vittorio a provocazione vera perché perché ha fatto 10 minuti 10 minuti 10 nel primo parto con chiusi poi è rimasto in panca una dose ma voglio dire voglio dire io sono d'accordo sulla seconda cosa che ha detto raffaele io sono d'accordo con la seconda cosa brux è un giocatore molto secondo me molto molto particolare se osservate è un giocatore molto individuale molto individualista gioca anche da solo se ne va la tira da tre penetra ed è un giocatore molto pulito in attacco e in difesa non fa mai falli non subisce falli è un giocatore molto molto interessante molto particolare avevamo parlato settimane fa no se vi ricordate che si poteva anche pensare un sacrificio pensando a un'alternativa verticale che sia un 4 ecco diciamo che in questo momento ci sta benissimo uno come brux questo momento si vittorio è vero che è un giocatore individualista è un giocatore che sa prendere l'iniziativa però è anche un giocatore estremamente intelligente nel senso che quando è il momento di far giocare la squadra è anche altruista non è che per forza sia un mangia palloni è un giocatore che si prende l'iniziativa anche contro chiusi ha cambiato la partita lui nel primo quarto quando ha capito che la squadra era nel pallone totale si è preso lui la responsabilità ha fatto quell'entrata a quel paio di entrate attaccando il ferro ha detto boh mi metto in proprio ma lo ha fatto proprio per per necessità ecco è anche molto più attento sulle palle perse le perdeva adesso è molto sì sì non è cresciuto no è assolutamente è assolutamente utilissimo e ma da casa ci chiede un parere su trapani come sempre dico la mia voi dite la vostra io dico che trapani ha un solo avversario il presidente cioè a mio modo di vedere antonini ha apparecchiato la tavola per dei playoff non stressanti di più per la squadra di trapani a mio modo di vedere trapani se per sbaglio nel percorso alla serie a incappa in una sconfitta può entrare in un loop mentale negativo da cui non si ripiglia più è fortissima è la più forte però attenzione attenzione perché veramente eh il presidente sta mettendo in difficoltà tutto l'ambiente sia nel calcio che nella palacanestro sì io vorrei sì no assolutamente d'accordo aggiungo anche un'altra cosa su trapani ma anche su cantù e torino loro hanno affrontato un girone un po' drogato dal fatto di essere nettamente inferiore dal punto di vista tecnico al girone rosso io ho un giudizio definitivo ma insomma definitivo no insomma un po' più plausibile un po' più vicino alla realtà su trapani mi sentirei di darlo dopo la fine di almeno insomma diciamo dopo un quattro cinque partite del fase a orologio quando trapani avrà incominciato ad affrontare le prime due tre del anzi sì non la prima ma insomma le la seconda la terza e la quarta del girone rosso perché lì si capirà esattamente eh per quanto insomma saranno tutte sfide che affronterà in casa però lì si capirà effettivamente il reale valore di una squadra che finora non è stata messa alla prova da par suo ecco questa è la mia impressione sì no io sono d'accordo con voi non seguo tanto trapani l'ho vista trieste in coppa in prestaggio a settembre mi ha fatto un po di mi ha fatto una buona impressione non la seguo molto sono d'accordo con raffaele quando parla che una che una sconfitta può destabilizzare tutto però una sconfitta più durante i playoff che non nella fase sì 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 concordo ecco nella fase orologio io comunque posso dirvi io vorrei evitarla se posso io la eviti ai playoff bisogna bisogna piazzarsi nei posti dispari oggi non posso evitarla sì ma per l'appunto per l'appunto no poi chiudiamo perché siamo già qualche minuto oltre ma cosa potrà succedere in queste ultime due giornate posto che scontri diretti praticamente non ce ne sono più andiamo a vedere cosa cosa potrà succedere in questa nella prossima giornata vedete c'è verona che gioca a nardò perché trieste deve guardare verso l'alto ma anche verso il basso evitare il quinto posto perché si arriva a pari di merito pari punti con verona e quinta per cui verona va a nardò non semplicissima come trasferta ma insomma ognuno può fare le sue valutazioni e poi vedete c'è il grande scontro diretto fra udine e forlì qui effettivamente chi vince potrà arrivare seconda e anche la fortitudo ha uno scontro in casa contro cividale fortitudo che ha perso contro 100 la settimana scorsa avrà voglia di rivalsa però cividale come abbiamo visto è in grandissimo grandissimo grandissima ascesa e in più c'è il lemb che settimana dopo settimana dovrà avrà sicuramente messo giù un po di pancia nell'ultima giornata l'ultimo scontro diretto lo sappiamo c'è forlì contro trieste udine che va a rimini quindi forlì e rimini si incrociano con udine e trieste a campi invertiti e poi c'è verona contro la fortitudo però appunto verona può arrivare ormai o soltanto quarta o quinta direi secondo voi vincendo due partite trieste può ancora ambire a qualcosa di più del quarto posto da quello che ci dice anche daniele in chat sostanzialmente noi potremmo addirittura arrivare secondi in una serie di combinazioni io sono totalmente ignorante su questi tabelle quindi mi mi astengo e lo seguo e lo seguo pedisseguamente quindi c'è ancora tanto in ballo sostanzialmente la partita ovviamente udine forlì dirà 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 molto dirà molto però la mia idea è sempre quella che se ci soffermiamo un po alla posizione che è un po fuorviante nel senso noi dobbiamo sperare che trieste ritrovi gioco e solidità esatto sostanzialmente al di là di tutto e dopo abbiamo visto che la quarta la sesta come come pistoia cremona sono andate su facendo una stagione regolare assolutamente anonima quindi è quello il discorso essere pronti e strutturati per la fase per la fase finale tutto là sperando che poi il calendario sia benevolo e metta le partite più difficili verso la fine della fase orologio quando probabilmente sarà rientrato reyes che io valuto potrebbe rientrare dopo cinque partite più o meno insomma dopo metà della fase orologio sì scusa no no dimmi dimmi vittorio volevo dire ma lì come fanno un sorteggio come funziona il calendario dell'orologio mi astengo chiedi troppo in una delle prossime puntate magari ecco ci informiamo dai studiamo studiamo la questione una cosa volevo dire prima di chiudere non abbiamo toccato per niente l'argomento mercato ecco stavo stavo giusto per 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 dire la mia spiffero assolutamente non confermato ma lo dico eh si parla di eric lombardi nel tacquino di my carceri ma ripeto ripeto è uno spiffero che non è confermato da da addetti ai lavori per cui la butto la eh esattamente come mi mi è arrivata beh 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 ecco altro altro non non ho sentito eh da altre parti quindi è questo l'altra cosa avete comprato la maglietta con lo schema di clark è bellissima devo dire bellissima leggendario definito il leggendario canestro di clark non mi sembrava peraltro nemmeno particolarmente esaltante come fattura ecco per cui e non particolarmente leggendario però vabbè ognuno ha le leggende che si merita direbbe qualcuno ma insomma senza voler essere campanellisti però insomma dai eh comunque il programma scorso ci stava ancora bene eh come già no eh assolutamente certo eh infatti vedo jason clark è uno dei migliori giocatori del nostro girone io non lo cambierei sì però sì no però sì però sì dopo games dopo games me lo tengo stretto clark assolutamente sì assolutamente però diciamo che che clark eh non è arrivato dopo games no è arrivato dopo dopo aj come si chiamava quello prima era solo per dire dopo games uno come clark uno come clark mi stava bene assolutamente sì assolutamente adesso francesco su questo cenno all'ex virtus mi è venuto un reflusso gastrico quindi chiudiamo qua perché potrei veramente avere una notte difficile perché quello non è ecco adesso mi sono ricordato taishon alexander l'abbiamo detto l'abbiamo detto quindi veramente ma io ho la credenza piena di gaviscon quindi adesso dopo averlo pronunciato che sono una bustina non me la toglie nessuno bene ragazzi invitiamo tutti ovviamente a venire al palazzo domenica partita importante partita che da seguire perché appunto c'è tanto ancora in ballo ok grazie sì attenzione con lo spirito che ha pervaso il palazzetto nelle ultime settimane uno spirito sempre costruttivo di sostegno alla squadra oggettivamente sul 9 a 22 qualche mugugno è piovuto però devo essere sincero anche da parte mia per cui che sono un incrollabile tifoso ottimista per cui lì ci stava ma al di là di quello ragazzi venite a palazzo e sostenete questa squadra perché come recitava appunto lo striscione della curva il primo striscione della curva domenica nulla è perduto tutto è ancora possibile però certo ringraziamo quindi vittorio ci vediamo una delle prossime puntate perché se non altro voglio vorrei vorrei vedere qualche altra per sentire qualche altra perla di saggezza enologica oltre che baschettava ovviamente se sommegliè tu per cui insomma dai ci si può aspettare saggezza per passione sommegliè per passione che è ancora meglio e quindi auguriamo a tutti un buon weekend una buona partita domenica ci vediamo la prossima settimana ciao grazie ciao ciao